Ragazzi lasciate subito tantissimi like per il ritorno di Clash Royale sul mio canale E per l'incredibile video di aggiornamento per tantissime news Vi ricordo anche l'hashtag Road to 1000, tutti insieme, versi 1000 Io vi lascio con il video, buona visione Bene ragazzi, bentornati al vostro patricano E così qua tornate finalmente in un nuovo video Siamo tornati, mamma mia signore, dopo tantissimo tempo Su Clash Royale, è incredibile signori, lasciate tantissimi like qua sotto Perché siamo passati dall'arena 4 all'arena 6 e siamo vicinissimi all'arena 7 Quindi una rimonta, una scalata incredibile, incredibile per il mio canale, mamma mia E come potete vedere manca soltanto uno slot e si può fare un grandissimo chest opening Con due bauli magici e uno gigante, quindi preparatevi Quindi stavolta io direi di andarci a fare una partitella E poi vedere subito i tornei che hanno aggiornato da una roba pazzesca Innanzitutto è arrivata anche una nuova carta, lo sgherro gigante E come volete vedere qua fra 10 giorni arriverà il Drago Infernale, una nuova leggendaria Madonna E altre carte in arrivo Quindi signori, questo è il deck che sto usando adesso Che mi ha aiutato un po' nella scalata Insieme a un altro deck, ma è quello che uso ora Quindi io adesso direi di andarci a fare una partitella Becchiamo una nuova slot Magari avere cool di prendere l'ultimo slot per il baule magico Magari E poi andiamo subito per i tornei No, parte già con gli estrattori questo Distruggiamo subito l'estrattore, per favore Perchè sennò sono cazzi amari dopo E già a me i cazzi non piacciono Poi amari è proprio Vai, 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 vai Dai che manca poco Dai, un colpo, un hit Sì, sì, sì Vai, vai così, vai così, vai così Defense, defense ora, defense ora Ho che quelli sgherri, ho che le frecce Dai, dai così Ci spostiamo subito, subito, subito Sull'altra torre Ancora con l'estrattore Ma hai rotto le palle Con questi estrattori del cazzo Estraimi sta minchia proprio Guarda un altro Lezzo Giù, giù È andata, è andata L'abbiamo vinto noi L'abbiamo vinto noi L'abbiamo vinto noi Proprio easy, easy Non puoi fottere compatri Non puoi fottere compatri Guarda qua che rimonta Beh, ma uno è d'argento Più 34 trofei Beh, buono, buono E dopo queste iniezioni di fiducia Andiamo subito, subito A vedere i tornei Perché possiamo fare una sfida grandiosa Spendendo 100 gemme E potendo vincere anche molto, eh Perché ha 22.000 d'oro Però è molto difficile per il premio Oppure, oppure andare proprio easy 10 gemme 10 gemme Magari vincerne 2000 Con 100 carte Quindi via 10 gemme che 10 gemme proprio ce le facciamo in 0 secondi Quindi via Purtroppo con queste 9 regole Avremo, dovremmo vincere 12 partite E possiamo perdere al massimo 3 Una volta perse 3 partite Siamo fuori dal torneo Ok, mamma mia E l'arena tipo cambierà ogni volta Proprio a random Ok, andiamo a provare a fare il culo anche questo qui Dai Vai, vai, vai Vai, dai Sì, sì 1 a 0 1 a 0 Occhio, occhio Difendiamoci, difendiamoci Vai, vai, vai Cinghiale e valkyria Ascia e martello Vai, dai E buttala giù E buttala giù 2 a 0 Dai, dai Occhio Non facciamo cappella adesso Per favore Blocca quel cazzo di principe Grazie Mamma mia Mamma mia Dai, dai, dai Resisti No, no, no Vabbè 2 a 1 Vabbè Quello ci stava Ci stava Adesso Occhio Occhio dall'altra parte Però Cerchiamo di affussarlo in qualche modo Vai, vai, vai Vai, vai Sì Sì Mamma mia Mamma mia 3 a 1 Striscia positiva 2 come vittoria Mamma mia Poi hanno anche cambiato l'animazione Più 50 e più una carta Perfetto, perfetto Dai, via con la seconda Difendi, 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 difendi Difendi in qualche modo Occhio 2 le la buttavo giù No, 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 no No, no, gliela stavo per buttare giù Se non metteva le frecce andava giù con la torre Però con tono del livello 9 è mancato pochissimo a portarla a casa Bene ragazzi, questo video può finire qua Io spero che questo video sia vissuto Se ci sono stati lasciati tantissimi like qua sotto Lasciate tantissimi like per il ritorno di Clash Royale sul mio canale E per la grandissima grandissima scalata che sto facendo E sono sicuro che continuerà ancora questa scalata E poi grandissimi aggiornamenti perché tornei migliorati Nuove carte che alcune stanno uscendo e altre devono uscire Poi anche nuovi bauli perché ci sono i bauli leggendari e i bauli epici Con solo epiche e solo leggendari Cioè, mamma mia Stavolta è davvero un bel aggiornamento Mi è piaciuto davvero tanto Con anche la grafica cambiata Bravi, bravi golli di Supercell stavolta Come al solito vi ricordo il link qua sotto nella descrizione per seguirmi Di Facebook, Instagram, Google Plus, Snapchat e Periscope Vi ricordo anche l'hashtag Road to 1000 Tutti insieme, versi 1000 Noi ci vediamo in un prossimo video Mi raccomando Stay tuned Stay Patrick Bella Hashtag Q&A Lo esci? Signore, preparatevi perché stavolta Si escono le carte in tavola Si scopre tutto Il lato più oscuro di Patrick Grazie a tutti Grazie a tutti